Dal 1 dicembre Amerigo Varotti non sarà più il direttore di Confcommercio Marche Nord. L'annuncio, ventilato da giorni, è stato ufficializzato questa mattina in una conferenza stampa che vede Varotti lasciare quella direzione mantenuta dal 1995 per un'avventura in Confcommercio iniziata nel 1986. Un'avventura che non finisce perché Varotti, che è in pensione da circa 4 anni, manterrà in cariche nell'associazione circoscritti all'ambito di sviluppo e promozione turistica, da Federalberghi alla sua creatura degli itinerari della bellezza. C'è grande soddisfazione personale insomma per quello che abbiamo fatto e quindi questi tanti anni, questa vita sicuramente non è stata sprecata, non ho nessun rammarico, abbiamo superato anche momenti difficili, sono felice di quello che abbiamo fatto e di quello che ovviamente continuerò a fare per Confcommercio fino a quando insomma i dirigenti vorranno. Varotti ha ricordato un lungo percorso condiviso con le presidenze di Mancini, Marchetti, Musso, Berti, Pedinotti e infine Angelo Serra che ha trasformato un'associazione di commercianti in qualcosa di molto più grande, radicato e ramificato nel territorio. Grande associazione di imprese di tutti i settori, abbiamo trasformato il mondo del turismo con la creazione della Federalberghi Peso Rubino, abbiamo creato l'associazione Ristoratori che prima non c'era ed è l'unica associazione di ristoratori della provincia. Abbiamo realizzato tantissime iniziative su tutto il territorio dove abbiamo 15 sedi e tra l'altro sedi che sono state in questi ultimi anni, sono state aggiornate, ristrutturate, penso alla sede di Fano, alla sede di Gabice, quella di Urbino. Abbiamo creato un progetto per l'itinerario della bellezza che ci sta dando molte soddisfazioni sia dal punto di vista turistico ma anche economico, devo dire, con 5 comuni che inizialmente affidarono l'incarico della promozione alla confcommercio e che oggi sono diventati 29 nell'anno prossimo. Percorso florido non privo di difficoltà. Il momento più basso sicuramente sono state le due vicende, quella del Covid che ha riguardato tutte le imprese, tutte le associazioni con le difficoltà del mondo economico e l'altro invece aspetto che ha riguardato soprattutto noi questa iniziativa imprenditoriale che non è andata bene, questa del cubo, questo tentativo voluto dai dirigenti, da tutti noi insomma, di creare un centro commerciale all'interno del centro storico, favorendo la presenza, la partecipazione dei commercianti del centro che non ha avuto i risultati sperati e ci ha creato anche dei problemi economici, diciamolo onestamente. L'attuale vice direttrice di confcommercio Agnese Turfelli sarà l'erede, almeno in fase temporanea, delle funzioni direttive di Varotti. Certamente cerchiamo di avere un rinnovamento perché con i tempi che ci sono dobbiamo cercare di riorganizzarsi un po' e quello che vediamo per il momento è che l'Agnese che è il vice direttore farà le funzioni di direttore e per vedere di riorganizzarsi e decidere chi eventualmente un giorno riassumere un altro direttore che porterà avanti sia la linea che è il CDA di confcommercio, stiamo valutando, studiando, vedendo cosa possiamo migliorare per dare sempre dei migliori servizi ai nostri associati.